Ciao io sono Tommaso e oggi impariamo a fare video verticali con DaVinci Resolve La domanda mi è stata posta pochi giorni fa e approfitto perché è un argomento che non avevamo ancora trattato ovvero i video verticali su DaVinci Resolve cioè i video che andate poi a mettere su Instagram o comunque sulle stories di Facebook, di Youtube e via dicendo quei video che compaiono esattamente nella forma verticale del telefonino quindi non orizzontali a 1.920x1.80 ma a 1.080x1.920 Passiamo subito alla schermata di DaVinci Resolve, eccoci qua la vediamo qui davanti, abbiamo la nostra pagina edit dove abbiamo la nostra timeline vedete che la timeline è già predisposta in 16.9 quindi in 1.920x1.80 se noi andiamo ad inserire ad esempio una clip qui dentro vedremo che la clip è appunto 1.920x1.80 quindi più larga che alta di fatti se andiamo a dare play lo vedremo in questa maniera qua per andare a ritagliare l'immagine l'opzione 1 potrebbe essere quella di fare un crop dell'immagine quindi spostarci sulla sezione transform e andare a croppare qui sotto l'immagine fino a quando non otterremo la nostra immagine verticale come la vogliamo però innanzitutto non sappiamo quanto l'abbiamo tagliata esattamente e perché non abbiamo le misurazioni corrette dovremo fare un sacco di calcoli ma poi soprattutto ci rimarrebbero le bande nere laterali nel momento dell'esportazione noi invece vogliamo andare ad esportare il video verticale che non abbia le bande nere laterali quindi come andiamo a fare ci spostiamo all'interno del nostro settaggio dei project settings quindi i settaggi principali e la prima pagina che ci compare è proprio quella corretta vedete che siamo su master settings ricordatevi che ci sono tantissime varie opzioni all'interno dei project settings ma a noi interessa master settings e guardate un po' proprio qui la prima delle impostazioni la prima finestra che ci compare è quella del timeline format ovvero la timeline resolution che è 1920x1080 in HD quindi in HD qui sopra noi possiamo andare a cambiare la risoluzione come più preferiamo fino alle risoluzioni in 4K in questo caso però noi vogliamo andare a customizzare la nostra immagine perché da 1920x1080 la vogliamo di 1080x1920 andiamo a dargli save qui sotto nel frattempo abbiamo già il timeline frame rate a 25 il playback frame rate a 25 andiamo a save e vedete che automaticamente la mia finestra qui di preview mi mostra effettivamente l'immagine all'interno di una porzione verticale del video quindi verrà salvato effettivamente solo questo video da qui potremo iniziare a lavorare la nostra clip quindi il consiglio che vi do principalmente per questo tipo di registrazione è quella di pensare già mentre state girando con la vostra telecamera o con il vostro smartphone che tipologia di inquadratura verticale vorrete avere perché non riusciremo mai ad ottenere un'inquadratura verticale da un filmato girato e pensato in orizzontale deve essere proprio pensato a priori tant'è che anche nei miei corsi che faccio sia online che di persona spiego sempre che prima di fare un video bisogna avere un'idea quantomeno pensata se non scritta o addirittura una storyboard che ci permetta di andare a concludere e a visualizzare fin da prima quello che sarà poi il lavoro finito quindi in questo caso facciamo un esempio anche se in realtà non è corretto per questo tipo di clip per andare a rendere l'immagine corretta all'interno del video dovremo andare a zoomarla effettivamente un bel po' perché è stata pensata per essere filmata in 16 noni non in 9 sedicesimi e andremo nella sezione transform sulla sezione zoom qui sopra vedete è la sezione dedicata allo zoom ed è linkato sia per l'asse x sia per l'asse y perché se non fosse linkato questo andremo a rovinare vi faccio vedere che cosa succederebbe andiamo di nuovo a rimpicciolire se non fossero linkate andremo a aprire solamente una immagine o a strecciarla nell'altro senso invece noi non vogliamo deformare l'immagine la vogliamo rendere perfettamente fruibile quindi vedete che se sposto lo zoom x si sposta automaticamente anche lo zoom y che ci siamo una condizione del genere in questo caso torno qui e vediamo che cosa è successo nel mio video verticale vedete che ora ho la visualizzazione verticale della mia clip ovviamente non saranno centrate tutte le immagini quindi poi bisognerà andare a ricentrare le varie immagini facciamo un esempio avevo visto all'inizio c'era un pezzo di clip ecco questa qui del sole e io vorrei che il sole fosse al centro diciamo della mia clip quindi vado a prendere la clip che mi interessa in questo caso l'ho tagliata perché era un unico clip e con la mia position sull'asse x vado a spostare la mia clip per visualizzare esattamente il punto che mi interessa ovvero il sole anche qui ad esempio potrei prendere questo pezzo qui e spostarlo leggermente più al centro di modo che io abbia effettivamente la visuale di ciò che mi interessa ovvero il canotto esatto il servo è perfettamente all'interno quindi il resto è perfettamente nella posizione che mi interessa per poter esportare il file in una versione in 9 sedicesimi una volta che ho messo a posto tutto il mio clip non farò altro che andare in deliver qui in basso e andrò a dirgli ad esempio su custom in questo caso andrò a dargli un nome gli dirò dove andare a salvarlo gli darò un save e in questo caso la resolution sarà 1080 per 1920 add to render queue start render e lui renderizzerà la mia clip in 9 sedicesimi una volta terminato se andiamo ad aprirlo vedremo che appunto il video è visualizzato in verticale il video è Bene, spero che anche questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per capire come andare a strutturare, a creare video verticali con Da Vinci Resolve. Se vi è piaciuto il video ovviamente cliccate un bel mi piace e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno settimanalmente. Ricordatevi che gli appuntamenti con questo canale YouTube sono il martedì in diretta verso le 6, 6 e mezza, il mercoledì con le recensioni e comunque le video produzioni e il giovedì con i tutorial su Da Vinci Resolve. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!